Io faccio parte della compagnia Civilleri Losicco, binomio tra me, Manuela Losicco e Sabino Civilleri. Insieme formiamo, siamo degli attori, siamo dei registi, siamo un gruppo molto eterogeneo di vari professionisti che si occupano nel campo dell'arte, di varie cose. Il fatto è che nessuno l'aveva mai vista all'opera, ma diamine giovinotto, voi siete una macchina di precisione e efficienza. Sono un'attrice dello spettacolo Box, nello spettacolo interpreto una ragazza che si chiama Jenny Fermancini, detta Jenny, alle volte anche chiamata Gianni perché viene confusa con un uomo. Io praticamente rappresento un ruolo che nel pugilato è il secondo. Un altro elemento molto importante è lo sport. Noi lavoriamo molto utilizzando la metafora dello sport nel sociale e quindi nella vita, perché per noi lo sport è proprio, è la prima forma di interazione che un individuo ha con la società o quindi con gli altri individui. Lo spettacolo in particolare racconta di appunto un gruppo di lavoratori di una palestra che a un tempo brillava di successi, di grandi combattimenti e adesso invece devono far vedere che questa palestra comunque è in attività, che funziona. E quindi loro riavviano questa macchina prendendo un pugile che possa permettergli appunto di fare questo incontro. E lo prendono un po' un po' a casaccio, un po' scegliendo il primo che passa. In questo caso è il ragazzo delle pulizie. Per noi uno spettacolo è un progetto, è un progetto che parte da una domanda e che poi via via viene sviluppato rispetto alle immagini, le suggestioni che ci vengono suggerite dalla domanda che ci poniamo. I primi laboratori erano appunto degli studi sulla box, come si sta in posizione di guardia, come si tirano i ganci, i montanti. Ogni relazione viene creata da un fatto reale che sta proprio accadendo. Tutte queste azioni pratiche secondo noi sono di grande viatico per la comunicazione. Lo spazio e la macchineria scenica può raccontare drammaturgicamente una storia. Box prendiamo come pretesto lo sport del pugilato per parlare del teatro. Grazie per la visione! Grazie per la visione!